state troppo vicini non potete stare state troppo vicini manteniamo la distanza state troppo vicini non potete stare mettila faccia video perché non potete stare per strada non potete stare non stanno gli italiani non state neanche voi state a distanza mettete le mascherine ma non potreste stare tranquilli non mi mandare affanculo ti prego io già l'ho visto tu di là tu sei fare le persone con il casino di là se vuoi fare il casino come loro vuoi fare il casino come loro tu sei polizia io sono un consigliere sono un consigliere e tu non puoi stare io sono un consigliere come loro e tu non ci puoi stare perché io voglio che tu stai a casa io sono razzista e voi che praticamente non rispettate le mie allora mettiti a un metro mettiti a un metro mettiti a un metro mettiti a un metro tu devi stare esattamente glielo stiamo dicendo lo ha detto lui non fai la gente video hai capito? voi non potete stare punto stavate assemblati senza mascherine stanno il video non capiva il Dio però si stava prendendo il telefono da mano questo signore siamo ignoranti italiani e siamo razzisti vi abbiamo dato l'ospitalità e siamo razzisti vi dovete vergognare vi dovete vergognare dovete rispettare le regole dovete rispettare gli italiani voi qua siete ospiti non siete padroni siete ospiti vai a fanculo tu vi dovete rispettare le regole